Albano. Pseudonimo di Albano Antonio Carrisi. È un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo. Inoltre ha vinto 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Ma, tenetevi forte, hanno deciso di non coronare questo sogno, con un sì punto. La motivazione? Entrambi si sentono già legati a livello mentale e spirituale. Un'intimità così profonda da rendere superfluo il vincolo formale. Ma le sorprese non finiscono qui. L'Alecciso ha anche rivelato di aver declinato un'opportunità imperdibile. Partecipare all'Isola dei Famosi. Un'occasione che avrebbe scatenato il delirio dei fan, ma che Loredana ha gentilmente rifiutato. Il motivo? Desiderio di restare al fianco del suo amato Albano e dei suoi adorati figli. Dimostrando che la famiglia viene sempre prima di tutto o preferito, restare con Albano. Voglio stare vicina anche a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano Junior. E stare in famiglia per me in questa fase è molto importante. Parlando della sua relazione con Albano, Loredana ha confessato di vivere un periodo di felicità e serenità, come mai prima d'ora. Le serate casalinghe a Cellino, con Albano che cucina e suona, sono il rituale perfetto per consolidare il loro legame. E cosa c'è di più romantico di un anello come segno di amore eterno. Ma l'Alecciso non ha solo svelato i dettagli della sua vita privata. Ha anche condiviso i suoi sogni futuri. Il desiderio di tornare in televisione, con un progetto tutto su brilla nei suoi occhi. Un sogno che spera ardentemente di realizzare.